Elezioni comunali 2024, opposizione al centro-destra, ma anche approfondimenti su sanità pubblica e tematiche ambientali. Tutti argomenti al centro della festa dell'Unità 2023 a Pesaro in Baia Flaminia, al nastro di partenza ieri sera, giovedì 20 luglio, per una quattro giorni di dibattiti e condivisione tra il popolo democratico. Un momento vissuto come occasione di rilancio da parte del PD, che al primo incontro sul palco, in programma alle 19.30, ha accolto la segretaria PD delle Marche Bonprezzi, il capogruppo PD delle Marche Mangialardi, il consigliere regionale Biancani e la segretaria provinciale Rosetta Fulvi. Un grande momento, io sono veramente molto soddisfatta come segretaria provinciale e mi congratulo con il PD Pesaro per l'organizzazione di questa quattro giorni, molto intensa, dove ci saranno momenti di confronto politico sulle questioni locali, regionali e nazionali e anche tanta socialità. Il PD è questo, persone che sono militanti, generose, che mettono a disposizione il proprio tempo e che dimostrano che la passione politica è proprio questa, cioè quindi stare tra la gente, mettersi a disposizione e offrire momenti di confronto e di dibattito. Ovviamente noi portiamo nei nostri momenti comuni, portiamo i nostri valori, i nostri punti di vista, la festa è aperta a tutti, quindi sono ben accetti coloro che la pensano come noi, ma anche coloro che invece pensano cose differenti oppure coloro che si vogliono informare. E comunque per noi rappresenta il momento precedente alla prossima campagna elettorale per le amministrative, che il prossimo anno interesserà tantissimi comuni, comuni anche molto grandi come Fano, Pesaro e Urbino. Sicuramente una bella iniziativa, anche un'occasione per ritrovare le persone che sono vicine al centro-sinistra, ma devo dire che aver scelto di fare questa festa a Baia Flaminia secondo me coinvolge un po' tutti, cioè comunque un momento di festa, un momento in cui c'è un'occasione per confrontarci su quelli che sono i temi più fondamentali di questo territorio e sicuramente tra i temi fondamentali che verranno trattati durante questa festa c'è il tema della sanità. Come tutti sapete c'è la volontà da parte del governo del centro-destra di approvare il piano sanitario entro le ferie estive, è stata fissata ad oggi l'8 agosto come il giorno in cui dovrebbe iniziare la discussione. Noi come rappresentanti del Partito Democratico abbiamo espresso tutta la nostra contrarietà, secondo noi non c'è stato il tempo di poter condividere con tutto il mondo della sanità, dai medici, gli infermieri, alle varie associazioni, alle varie realtà che si occupano di persone disabili, perché è stata fatta in 20 giorni, praticamente si è voluto ascoltare un po' tutti i soggetti, ma quello che è la verità è che questo piano sanitario non ha un soldo, un euro in più rispetto a quello di oggi, non è prevista la possibilità di poter assumere il nuovo personale e quindi non si capisce come si riesca in qualche modo a dare la risposta soprattutto alle liste di attesa, ai servizi psichiatrici, a tutti i servizi dove le persone sono costrette a rivolgersi fuori comune o comunque fuori regione, perché i servizi qui non vengono dati. Quindi un piano vuoto, senza aumento di risorse, senza la possibilità di nuove funzioni, ma che ha previsto, se pensiamo anche a quello che ha previsto, tipo la casa di comunità a Galantara, io sono convinto, come è successo per il centro per l'autismo, che alla fine ci sono accorti, che avevo ragione io, che la centrale operativa e il centro per l'autismo erano incompatibili, ci accorgeranno che non è possibile realizzare una casa di comunità a Galantara, perché nella casa di comunità dovrebbe mandarci il medico di base, un medico di base che dovrebbe fare riferimento a 100.000 persone, quindi i pesareggi dovrebbero avere tutto il proprio medico di base a Galantara. È pura follia, è un'incapacità di essere presenti sul territorio, di conoscere il territorio, una politica che non riesce a gestire le tematiche, che dà poi gli indirizzi al personale, che molte volte ovviamente segue quelle che sono le indicazioni della politica, ma indicazioni che sono veramente prive di logica.